Da Forio con il dottor Mimmo Loffredo che qui a Forio è consigliere comunale ma stamattina parliamo con lui in qualità di medico, chirurgo dell'ospedale Rizzoli per raccontare di un'emergenza che è ancora viva e presente all'interno del nostro comune di Laccamino che è quello dell'emergenza del personale una carenza non solo di specialisti ma anche di sanitari con altre mansioni che costringe a volte altri lavoratori a turni davvero massacranti Come sto dicendo da anni, l'ospedale oramai sta alla fine, sta morendo l'ospedale Rizzoli nonostante gli sforzi della regione, della direzione generale che bandiscono concorsi, che vanno vacanti perché chiaramente senza un incentivo, senza incentivare le persone, senza motivare le persone da Nau nessuno viene a lavorare qua, nonostante abbiamo fatto fare interrogazioni parlamentari per avere la zona disagiata ma vedo che i sei sindaci sono completamente assenti L'altro giorno abbiamo parlato di un ragazzino di 15 anni con rottura di rene e milza con l'anestesista che era di turno da 30 ore e voglio dire si è mobilitata una isola intera per le uva di tartaruga stanno facendo le guardie di notte, tutti gli ambientalisti, gli animalisti, però molto c'è cosa sarò santa però non vedo nessuno fuori all'ospedale che fa un sit-in, fa uno sciopero, fa una manifestazione a favore degli esseri umani io voglio lanciare l'ennesimo e ultimo appello perché poi non ne parlerò più ai sei sindaci voglio dire, ho chiesto un consiglio comunale congiunto passato un mese dal crollo del solaio ma non se ne fa niente continuo a chiamare i vari presidenti dei consigli ma nessuno ha risposto, nessuno fa niente vuol dire che a loro sta bene questo tipo di sanità quindi aspettiamo gli eventi, quando l'ospedale chiuderà poi non dovranno lamentarsi e sarà solo colpa dei sei sindaci rischiamo quindi una situazione di aggravare ulteriormente una situazione emergenziale non tanto per la mancanza di spazi per la quale i lavori di ampliamento sarebbero anche ripresi per dare nuovi ambienti all'ospedale Rizzoli ma per l'emergenza del personale che sembra veramente una crisi senza fine Sì ma ripeto, sia la regione che l'Asla hanno mantenuto le promesse il primo luglio sono iniziati i lavori di ampliamento dell'ospedale Rizzoli hanno messo in sicurezza l'ingresso dell'ospedale non è vero che sta funzionando l'ingresso, stiamo entrando dall'ingresso principale ma quello che è importante è in modo che questa zona, questa isla venga dichiarata come zona disagiata in modo che gli operatori hanno degli incentivi parliamoci chiaramente, hanno più soldi sulla busta paga e questo incentiverebbe le persone da Napoli a venire qua avremo la folla, avremo la folla di chirurghi, di anestesisti, di infermieri di os che vengono a lavorare qua a Ischia però questa è una cosa che va fatta a livello centrale non possiamo pretenderlo dalla regione ma se va a parlare una sola persona se invece si uniscono i sei sinici e fanno un tavolo tecnico e facciamo una commissione d'inchiesta facciamo un'interrogazione del Parlamento che parte da Ischia ha un altro peso, un altro valore a livello centrale ma a questi qua, ripeto, la sanità isolana non interessa i sei sindaci quindi